allora adesso vi farò vedere la versione white del G500 dove sono state portate altre migliorie più che altro da design piano gioco in tinta di colore grigio o mini bianchi e grigi e manopole plastica legno fatte a mano dalla carlando di colore silver piedini di regolazione in questa versione inclusi già inclusi nel prezzo ciao a tutti grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video